Un remake di thriller con attori del tutto speciali, 26 giovanissimi tra i 4 e i 13 anni, tra cui ragazze e ragazzi di una comunità alloggio per minori e di un'associazione per giovani con disabilità motoria o cognitiva. Questo è il cuore di Thriller Kid Michael Jackson, progetto di rete voluto e messo in pratica dall'SSD Bellagiartani di Catania. L'intento è quello di utilizzare danza, recitazione e competenze tecnologiche per promuovere inclusione e contrastare isolamento sociale, disagio giovanile ma anche drop out sportivo giovanile, riportando nei più piccoli l'esidario di fare movimento con motivazione e divertimento. La diffusione via social del video ha poi creato sul territorio un effetto domino che sta stimolando la comunicazione tra le varie associazioni per la nascita di un più vasto progetto locale di supporto ai giovanissimi a rischio e marginazione.